yugio a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui nuovamente insieme a sacchetto dopo la sua deck profile di match match e sfruttiamo l'occasione bisogna fargli le fattute certo per portarci la sua deck profile di lab twin sprite giusto? si giusto giusto fatto la top 16 all'extravaganza americano 7 turni fatto 5-2 mi pare boh due settimane tipo troppe troppe eh lo so ma i video del cappello sono sempre in ritardo e niente ho perso in top 16 traptrix però il mazzo veramente figo comunque è la miglior versione di sprite sarà divertente parte ogni tanto i bric prima iniziare non ricordiamo ricordiamo il best il best sponsor dei video del cappello magic corner ovviamente il best compratore dei carti adesso il card game ragazzi vuoi vieni qua a fare la marchetta? no lo faccio io ho comprato delle sleeve queste sleeve qua ho comprato sono stati bravissimi hanno sbagliato sleeve e poi senza spendere un centesimo mi hanno rinviato con il pacco che mi dovevano inviare fantastici sono stati ah pensavo dicessi no allora ho preso ho preso dei pacchi tutti classic perché sto provando le le dragon shim classic mi hanno inviato due pacchi matte delle blue sky e mi hanno inviato quelle classic senza che che io li dovessi rinviare con le macchie dei signori dei signori non pensavo bisogna elogiare assolutamente non pensavo ovviamente il mio compratore dei carti se c'è te robe da sbarezzarvi c'è l'instagram di cappello che basta non siate le tipe che sennò la tipa si ingerogisce ragazzi ma guarda al lavoro c'ho a che fa sempre con le tipe porca miseria è ora di cambiare lavoro è anche ora di cambiare allora main 40 d'arte ratio degli aviltuin un po' particolare perché mi piace avere parecchi extender quindi tre frost una treat una kissy kill perché questi fanno tod vedi questa più questa più uno sprite tra blue jet e starter e fai todaly e quando lo fai con dabbo che sei vinto era splite abbastanza standard 3 3 1 1 niente da dire e entrap bonibiru perché era ulti e hash e imperma sempre perché era ulti e roba di consistenza tre di queste senza la quella che cerca questa perché non ti serve e tre starter e due desire state fantastiche queste carte veramente veramente forti assolutamente si pescavo malissimo però comunque pescare va bene sto mazzo poi vabbè tre clips perché ti servono e mono change of heart e perché ti servono beh main control e change of heart e le best card e queste ce le avevo sempre attaccate alle mani e no non sono in cimare e poi le altre delle magie di sprite che sono gamma burst e double quest'e serve per chiudo e questa te la va di sempre smash a sta inside e le extra abbastanza standard forse qualcosa un po più particolare e due gigantic todaly moschito mannequin e due zeus e zero mannequin ho detto mannequin probabilmente era downhard zero mannequin perché non mi serve insomma non ti serve e sprint perché se apri solo di sprite ti puoi mandare a live twin e all'altra tra porti gigantic i live twin ovviamente ringraziamo mister rettaroli che mi ha finanziato le live twin perché non le avevo e avevo venduto le mie tipo due giorni prima dell'evento e due due perché dopo c'è un po di spezia che è il pacchetto mascherina che se chiudi è forte e gli unici due cose che sono demone che puoi attivare dopo che hai fatto loro un unicorno che pesca sempre perché loro due puntano nelle zone giuste per fare unicorno e goddess per levare le robe troppo grosse dell'oppo perché è demone anche lei e tu hai tanti busti in campo per la side sempre la best contact c non ho giocato bell perché non ci ho pensato ma rigiocarei bell potessi non questi però sempre per lo stesso motivo e di side per vari beccaro spolverino perché sta uno storm perché niente era starlight ti ho detto boh mettiamo dentro storm e questa stava forte e i tornado un po particolari mi stavano forte perché ti leva le cose senza che ti triggeri lord priso o che possa fare tipo bug game o waking the dragon o cazzare del genere moro smasher perché la metti quando vai secondo e tanti spell paranda primo e niente mazzo ci stava tornando molto bene sprite è molto divertente tornare quando bricca cioè spesso tu sta con adesso senza elfo se imparare a pescare praticamente questo è il nuovo flunder certo forte fortissimo e niente se imparare a pescare rivolgetevi a me bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto fatemi sapere se li volete sacchetto dopo che un'altra top esattamente col video della profile dell'ondra almeno top 4 londra ovviamente ovviamente con cosa pensi di andarci? eh chadmec la matematica chadmec mazzo di chad dai perché? vieni qua perché perché la matematica non è un'opinione che plus mamma che plus tu non te io non te preso più in natura dopo ste cazzate no me lo rimangio questo è il puppet per fare una puppet no spirito ingranaggio a molla dov'è che è Jimmy Puppet e niente ragazzi è stato sempre un piacere essere qui a cappello e spero che ci rivediamo con la profile dell'ondra bene ragazzi ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao a tutti